Intanto continua il lavoro di semplificazione, di riduzione dei costi della politica, abbiamo iniziato da subito, noi prima di tutte le altre regioni italiane, in questo quadro c'è le modifiche statutari, quindi ci sarà una diminuzione dei consiglieri, questo non deve andare chiaramente a discapito del funzionamento delle attività del Consiglio, ma si può chiaramente risolvere il problema diversamente, quindi sicuramente ci sarà un'azione che invece deve responsabilizzare di più le attività legislativa, soprattutto con i risultati, l'efficienza si misura su quello che riesce a fare e sulla buona produzione normativa, però è un segnale che credo i cittadini apprezzeranno. Affrontiamo in Consiglio come abbiamo affrontato con le imprese, con i sindacati, con il tavolo di partenariato, con l'Europa, quindi noi abbiamo una discussione ampia di merito sulla più grande azienda campana, il più grande datore di lavoro della campagna, che è il porto di Napoli, ma la portualità in genere, quindi vale per il porto di Salerno, per tutta la portualità campana, perché noi non distinguiamo un porto di un altro che non sia campano, però ognuno deve avere il suo valore e il rischio è che se non c'è da parte di tutti, istituzioni, governo, forze sociali ed economiche, la volontà a vincere questa battaglia sui porti, ed è per noi occasione irripetibile, abbiamo messo quasi un miliardo di euro di finanziamento pubblico, l'Europa, il grande progetto europeo, quindi dobbiamo spingere perché questo grande datore di lavoro, questo grande polmone di ricchezza sia sfruttato per noi, per le future generazioni, per l'interesse dei cittadini e delle imprese.